Il premio Montare fuori di casa quest'anno guarda veramente lontano, non solo fuori di casa nostra, ma proprio fuori quasi ai confini dell'universo. Sì, quest'anno siamo nell'anno dantesco e quindi abbiamo voluto allargare la nostra mission e abbiamo pensato alla frase di Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle e abbiamo pensato che chi meglio del professor Guido Tonelli avrebbe potuto parlarci del cielo, delle stelle, del sole. E quindi dopo aver premiato a Milano il giornalista del Corriere della Sera, Paolo Di Stefano, che è l'inventore, il creatore del Dante D, abbiamo pensato di premiare un fisico, un astronomo, ma anche un uomo di grande cultura come il professor Tonelli. Il tema del tempo è un tema che interessa dalla filosofia naturalmente anche alla fisica, quindi è logico che un fisico si occupi del tempo, anche in maniera letteraria. Sì, ho scritto questo libro, Tempo, il sogno di uccidere Kronos, che è un libro sul tempo che può essere letto da tutti perché è il secondo di una trilogia. Il primo è stato Genesi, il libro che ho pubblicato due anni fa in cui si racconta l'origine dell'universo vista dalla scienza. Il secondo è il tempo. Cos'è il tempo? Cos'è il tempo per noi, esseri umani? Che cos'è il tempo per il mondo infinitamente piccolo, gli elettroni, le particelle elementari e i mondi dell'infinitamente grande, le grandi galassie? L'affresco che si ricava da questa lettura è un affresco meraviglioso che consiglio a tutti. Il premio Montale Fuori di Casa è stato fermato in qualche modo, almeno negli eventi pubblici, dalla pandemia, però è comunque continuato e adesso finalmente è ripreso col pubblico. Sì, oggi è una giornata emozionante, non soltanto perché stiamo premiando il professor Guido Tonelli, ma perché torniamo in presenza e quindi c'è il calore del pubblico che ci seguirà in questa premiazione. Ma durante questi due anni piuttosto duri il premio non si è fermato, ma abbiamo continuato le nostre premiazioni online. Quindi sono stati premiati alcuni giornalisti e anche alcuni poeti. E anche una rosellina Archinto della casa editrice Archinto. Abbiamo anche scritto un libro che è già in stampa e che uscirà fra due mesi. Però oggi è tutta un'altra cosa, perché nonostante ci siano stati tantissimi accessi, forse di più di quelli che ci sono in presenza, grazie all'online, oggi essere qua e poter vedere, sentire il calore delle persone è per noi una grandissima soddisfazione. Speriamo che sia l'inizio di una nuova normalità. Grazie.